Bentornati carici e amici, briciole di storia, eh? Che cosa vi abbiamo portato? Questa cosa qui è carina. Ma non è un'affermazione, è una domanda. Che cosa vi abbiamo portato? Questa cosa qui è carina. È carina, sì. È un bellissimo cigno di vetro, perché non credo sia cristallo, e metallo. La particolarità di questo cigno, oltre a essere particolarmente kitsch, è che ha le ali che si aprono. È fantastico. E questo vano, la schiena, è un vano per contenere che cosa? Allora, se hai una domanda, te la rispondo. Me la risponda. Allora, mi ricordo cose similari sulla tavola di mia nonna. Quindi già dovete capire di che cosa stiamo parlando. E conteneva sicuramente il sale. Non credo che ci fosse quella col pepe. Il sale col cucchiaino? O che si vendeva con le dita? La scelta. Quella cosa schifosa da fare con le dita. Io invece me lo ricordo con gli stuzzicadenti. Ma è troppo corto questo? No, ma perché stanno sollevati in modo che... Oppure con le forchettine corte, quelle da antipasto. Questo lo escluderebbe tutto. Gli stuzzicadenti potrebbe anche essere. Ma solo perché tua nonna ci metteva il sale. Non è che c'hai ragione tu. Però io mi ricordo direttamente. E gli stuzzicadenti avevano bisogno di una cosa più dritta. Ma ti ricordi il sale che si prendeva con le dita? E qualcuno ci ciucciava le dita. Ma no! E rimanevano i grumi di sale che tu prendevi. E dopo un po' diventava giallo. Ma che schifezza. No, di solito si metteva il mini cucchiaino. C'era un cucchiaino piccolissimo. E la gente lo ignorava e prendeva con le dita. Che era una cosa bruttissima. Ma tanto tu, quello che rimane attaccato le dita lo porti via. Ci ciucci le dita. Ma no! La visione è orrenda. Ma infatti io mi ricordo di queste cose. Questo oggetto qui che... Che diventerà tuo, lo sai. Alla fine della recensione è tuo. Ma è bello. E lo metti nella vetrinetta. No, era destinato alla discarica. Ma no! Cosa stai dicendo? Probabilmente è di Pentro. Dici sì, forse sì. L'argento mi sa di no. Però a Pentro sì. Ma perché il cigno? Perché il cigno è signorile. Ha questo aspetto molto, come dire... Perché è bello. Perché è tutto bello. Però non mi ha disegnato bene. È un bello oggetto. Adesso se dico che vale 10.000 euro, no. No, certo. Ma anche sul bello oggetto io avrei anche qualcosa da dire. Però mi piace il movimento basculante delle ali. Guarda che bello. Hai detto bello. Guarda qui. Ci guarda così imperioso con le ali aperte. Cioè qui dobbiamo rientrare. Negli anni 50, 60... Già negli anni 70 non si usava più secondo me. No. Sono diventate persone seri. Quando facevi la tavolata con gli ospiti o tutta la famiglia o gli ospiti importanti, non mettevi mica il salino quello che si butta attraverso i buchi, sta male. Eh, sta male. Quello invece è bello e adorna la tavola imbandita. Io sta cosa del sale non sono ancora convinto. Comunque facciamocela andare bene. Ci scriveremo un forse salino, ecco, forse salino anni 60. Quindi la cosa importante è che solo su Bicioli di Storia potete trovare questo e vantarvi anche con gli amici. Guarda che... Al lavoro, è arrivato il lunedì e di te, perché c'è il sabato, magari questo è il martedì, guarda che cosa ho trovato, te lo ricordi? E i colleghi ti dicono no. Non è vero che... Non me lo ricordo. Si stupiscono e si interessano. E dicono sì, ce l'aveva mia nonna, ma tu stai per andare in pensione, vero? E ti fanno questa battuta così. Vabbè. Bene, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video e abilitare tutte le notifiche. Questa me l'ha aggiunto un mio amico. Devi dire delle notifiche, perché sennò... Ok, abilitiamo tutte le notifiche, ma soprattutto di farlo vedere agli amici, ai parenti, ai colleghi. Guarda qui, che bello, guarda che canale. Se volete allontanarli da voi, fate. No, no, che stai dicendo? Alla prossima!